Oggi siamo qui per aprire per la seconda volta la mostra O Fiducia in questa scuola. Sono degli scatti, delle foto fatte all'interno dell'istituto primario della scuola primaria Gabelli, sita in barriera di Milano, dove quasi l'80% degli alunni sono bambini stranieri. Quindi in questi scatti si può notare comunque la differenza culturale e i bambini di oggi come vivono la scuola. Tanto che gli scatti comunque sono tutti scatti che rappresentano la quotidianità dei bambini, quindi dalla palestra alla mensa, all'abbraccio, al bigliettino tra innamorati, il bambino che sbircia dall'occhiolino per vedere se può entrare oppure no, oppure andare a farsi ancora un giro per il corridoio. Questa mostra è nata per i 100 anni dell'istituto Aristide Gabelli e poi stiamo continuando a farla girare perché io ritengo e riteniamo che sia necessario comunque portare avanti e far vedere come si lavora all'interno di scuole dove la maggior parte sono bambini stranieri, dove si pensa spesso a scuole ghetto, a scuole dove non si fa nulla, le scuole per gli ultimi invece. Da questi scatti si può notare tante attività dalla scherma alla pittura e si può appunto vedere la gioia di questi bambini nel frequentare la scuola. È una bellissima occasione, questa giornata è una bellissima festa, è l'inaugurazione della mostra per il centenario della scuola Gabelli, un evento importante per tutto il territorio di Barriera di Milano, una scuola che ha fatto la storia e che oggi attraverso il suo repertorio fotografico ci fa vedere quanti ragazzi sono passati attraverso questa scuola, attraverso questa cultura e questa formazione. La Barriera di Milano nel frattempo si è evoluta e ha dato spazio nelle classi alla presenza di ragazzi che prima arrivavano dal sud verso il nord attraverso le migrazioni e ora arrivano da paesi dell'estero e l'integrazione in Barriera è sempre al centro come cento anni fa ancora oggi. Quindi un ringraziamento alla Preside e alle insegnanti che si sono prestate all'organizzazione di questo evento. È una festa di centenario che dura da tutto l'anno, abbiamo avuto una bellissima festa all'interno della scuola a maggio e oggi concludiamo ma in realtà inauguriamo la mostra che finirà il 28 novembre.